Oggi più di ieri, buon pomeriggio da qualsieri, secondo episodio della settimana, martedì di nuovo tornati con un nuovo video, ci facciamo una bella partita in attesa delle nuove letterine che usciranno giovedì, giovedì usciranno le variazioni di valutazione Ci sono tanti bei giocatori con lettera A e B C'è Neymar, lettera B, Lewandowski, Greenwood, poi c'è, poi chi c'è? Ci dovrebbe essere Benzema, poi c'è Arnold, lettera B, Van Bissaka, Pavard, Aspiliqueta, Hernandez I portieri ci sono, no, c'è Neuer, Ter Stegen, Oblak, no Oblak no, tanti comunque belle lettere ci sono In più ci sono i giocatori della settimana e i POTS Euro, sarebbero i giocatori della Champions Per chi non lo sapesse, basta scaricare l'app PES Hub e da lì potete vedere tutti i nuovi aggiornamenti Gli allenatori che mettono, eccetera, eccetera, eccetera Prima di iniziare con questa partita, che ci andiamo a fare? Difensori centrali non ci sono, mi sa Poca e niente, difensori centrali non mi ricordo chi c'è Prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi ai canali che sono posti nella mia home Nella sezione canali consigliati PES Fun Club Gang Oltre al mio canale se vi va Siamo a un passo dai 330 iscritti Buon punto Dopo le partite di ieri Non ho giocato, queste ho 9.42 la valutazione che mi ero fermato ieri quando ho vinto l'altra partita La prima partita di ieri R2 Corre all'indietro e si abbracciamo E va bene, vediamo come va questo martedì Vediamo che cosa ci regala questa Questa classificata Vediamo un po', ha trovato l'avversario Strano ma vero, non so che valutazione è 9.64 A posto, quindi Merito campione Bene Bene, bene, bene Se l'andiamo a giocare 2.000 partite Va bene Forse se faccio 2.000 partite ci arrivo anch'io Merito campione Scherzi Lucas Hernandez Merda Va bene E chiamo Alba Va bene Gioca 4.3.1.2 Praticamente le ha messi uguali moduli Cruyff Messi No, Cruyff mettiamo il secondo tempo No Perché ce l'avevo qua? Ok Andiamo così Andiamoci a fare questa partita Contro un merito campione Vediamo un po' Come va? E' inutile soffermarsi Come vi ho detto ieri Se decide Konami Va bene Edved Torres Vanno bene Torres vanno basso Va bene Va bene Partita speciale Partiti speciali Partiti speciali Game special Vediamo oggi Com'è Come mi rispondeva qualcuno Su canale Ad Hamburgo Si corre all'indietro Beh Mi sono Bicciato sotto Quanti poi ci sta partita Tanto Vi prego Ancorrete all'indietro Uh fuori Non ho visto Chi c'è in porta Lui No No Perché quello è andato là Eh Vabbè 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 Fuori gioco Bene Va bene Va bene Ebbè La Casillas Ci ha in porta Van Dijk Non prende un pallone Non mi fa un altro Qualcosì Questo Mi fa un altro Qualcosì Vabbè Va bene Ma lui c'è Rikard Vierà Tutti C'era Mamma mia Il mio Incubo Guarda questo Che cazzo Ha preso E lui c'è un baffè libero Là Lo so Quello era Il rigore Se era fuori Aria Dava il rigore Cioè Dava la posizione Per farvi capire Quanto cazzo Ha fatto male Questo gioco Cioè Proprio Era rigore Tutta la vita Fuori aria L'avrebbe dato Questa Spiriqueto Si perde la pallo Guarda Mamma mia Spiriqueto Però ragazzi Guarda qua Terzino difensivo L'altro gol Vabbè Vediamo Guarda Beckenbauer No Ma poi ragazzi Ma che cazzo Boh Ma poi Non ci si capisce Un cazzo Non ci si capisce Gioca con CLS CLD Ma che cazzo Devo fa Un po' Vediamo se riesco A stare un po' Più coperto Così San Camillo San Camillo Non sto facendo La palla Non sto facendo La palla Gioca largo Là Non sto facendo La palla Sembra di antici Magari la larga Di là Devo fare Ragazzi Cazzo Troppo Prende gol Troppo Stupido Guarda Ma Eh va Va Eh c'è un bappè Qua La giocata La gamba Mi sta a posto Io arrivo Secondo Eh niente Ha preso lui Da qua Cross in mezzo Sta abbracciando Ma Niente Niente Ma Boh Ragazzi Ma Boh La quitto Perché Boh Non riesco a giocare Guarda 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 Non riesco a giocare Facciamoci una lanta Se no Non mi diverto Per niente Non mi diverto Ragazzi Già ho visto Di gioco poco Non mi diverto Per niente Guarda Non sto C'è un pallone Guarda Si è girato Non sto C'è un pallone Ma sto C'è un pallone Fa lo schema Sponda 0-3 Adesso Ma sto C'è un pallone Ha ripresa lui Eh Si mette Buone Giochiamo Basta Fino di prima Dove ci facciamo Andra partita R2 Va Ragazzi Se non devo andare Non va Non va Non è Un passaggio Non è Un passaggio Va Ma Ora Ora Poi giù il pad Dai 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 Cioè Quello Scoordinato Riesce a Favore I passaggi Che poi ho detto Ieri Io Arrivo a 9.50 E riscendo Lui Lui Va Oh Va Bene Nice Ah Passa la voglia Tanto Ma Prende lui Come ho fatto A segnare Quello Tra l'altro L'avevo Passata Che 37% Di possesso Pallo Va L'avevo Passata Io la Palla questo fa l'azione, fa i gol ma, R2, guarda qua, e dai su, cambiato un po', porca troia, cambiato un po', cambiato un po', R2 e si abbrassiamo guarda come cazzo aveva preso una palla a quello niente ha preso ma R2 e si abbrassiamo, giro tondo R2 ma proviamo a mettere un minic, ho sbagliato vaffanculo punta centrale vediamo un po' come va così guarda cazzo dai vai ancora, pausa dai, dai su, 4 a 2 si avvince, Muzzanos vai e mi devo scoprire che devo fare no, ma chi cazzo l'è data? no, vedi come corre indietro pure lui, però giustamente è quello che fanno tutti ecco, tornare al portiere guarda va madonna dai, 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 dai guarda come corre indietro quei Cowen, sta a fare la punta, sta a fare il difensore quanto cazzo è stupido questo, però ma va gli va pure di culo aspetta a fare la melina c'è la madonna guarda siete scontati guarda là guarda là quanto cazzo sei iota? ma quando sei, guarda quanto cazzo è stupido qua guardate che elementi quanto cazzo sei stupido guarda là guarda qua guardate questo guardate sto fenomeno guardate sto fenomeno guardate sto fenomeno sto coglione coglione guarda sto fenomeno cazzo guarda guarda sto fenomeno spazza la palla là cazzo guarda guarda che cazzo è la palla guarda là guarda sto fenomeno cazzo io comunque che appessa la pennessa tutto quindi guarda guarda che culo cioè gli ultimi minuti si è passati a giocare così questo capito? si è cagato sotto si sente la puzza di merda da qua si sente si sente la puzza di merda senti senti che puzza cia diazzo quanto cazzo siete pessimi ma magari sei uno che mi guarda subito magari magari si è cagato sotto questo non ha fatto più un tiro in bordo non ha fatto secondo tempo si è cagato sotto ma ha fatto una bolla ci sono aperta siete tutti la stessa merda siete inutile a dire tutti la stessa merda non te dieci punti ma le ho fatto tutti la stessa merda ma magari mi viene a commentare mi scrivi ti è la stessa merda che cazzo vorrei dire a fare mi viene a fare un'altra partita va fortuna ho detto ieri faccio bene non shoppo più le icon soltanto quelle che mi interessa dei pull e basta giocare con questo mi devo stammattivare sta gente sta gente frustata non essere a fanculo allora ieri sono 9.50 ho 10 punti 9.42 sempre così gente malata che siete ma tanto ma cazzo andate si è preso due golle si sa come dove è passata la palla ho detto ma non l'ho pulito da quittà alla fine che poi tra l'altro il gol che ho fatto io del 3 a 1 fino al primo tempo l'avevo passato in mezzo quello che ho tirato in porta cioè con X boh dobbiamo non la gioco non lo sai poi queste si cagano sotto ma boh ma boh ma casemiro c'è merda forma fisica 7 la romenica sta palla perché difensivo la ah perché c'è un quadrato quadrato vabbè vabbè inizio a giocare così vabbè poi torna la lettera C quindi niente andiamo così andiamo un po' Sandra portami al mare evidente tutturti tutturti tutto tutto Parca Dio Che cazzo sta a giocare Non ci vedo Che cazzo fa L'Allianz non riesce a si fare Vi prego non mi dite Che fate tutti quanti FIFA Street Che tacchetti Ma c'è Come ho detto Bah va bene Che cazzo è tirato Forlano è fortuna C'è destra e sinistro Ma boh che sta via Ma c'è certe partite Forlano Ma perché come fa così Perché io Tutti io Ci sto incontrando Guarda qua Voglio vedere Che cartellino gli da Ah beh Almeno 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 Voglio vedere Ah che poi gioca con Alba è terzino destro Giustamente Luca Questo ha levato Ma Davis a destra Bene Ottimo 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 Grande senso Dell'umorismo Ma perché Perché fate così Ha presa lui Vedi Quello che diceva Il video Prima Guarda quello che ha parato Oh Tanto lui Tanto lui Non ci viene addosso Guarda Guarda Mannaggia Ma come ha fatto A tornare lui La palla Ma Ha presa lui Guarda questo Ma No Non ti vuoi vedere E scognati E scognati E scognati Pure tu Oh Oh E vaffanculo Era pure pallo Era Ah Ah Mo Mo Fai lanci Mo Fai lanci Beh Giustamente Guarda Questo è indifensivo Rigore Rigore Questo Questo Basta che fai i falli Basta che fai i falli Qua Qua cazzo vai Ando Che cazzo vai Cazzo vai Ah Fallo contro Fallo contro Per farmi fallo Guarda Guarda come sta selezionando Guarda qua Guarda come sta selezionando Perché non so che deve far Imparate a difendere No che si è fermato A tirare la maglietta Imparate a difendere Siete penosi Falli Di cose Imparate a difendere Imparate a difendere Ah mo non giochi più Non me frega un cazzo Io ti faccio 30 gol Ti faccio Vi faccio vedere Che persone schifose Squallide siete Me ne frega un cazzo Ti sei fermato eh Me ne frega un cazzo Questo vi meritate Vi meritate questo Siete lo schifo Di sto cazzo Di gioco Vi diceva Falli Di qua di là Di su di giù Si è fermato Che cazzo di schifo Falli Eh Tirare le magliette Siete una cazzo Di vergogna umana Siete una cazzo Di vergogna umana Divertitevi invece Di rompere i coglioni Teste di cazzo Che non siete altro Me ne frega un cazzo Non me ne frega Questo ti meriti Non me ne frega un cazzo Me ne frega Questo è quello Che ti meriti Che cazzo di gente Frustrata Di merda Che siete Ma pensate a divertirvi Vanno che giocate così Scorretti Tutto Disconnesso Bravo Bravo Fenomeno Bravo Fenomeno Bravo Fenomeno Bravo Fenomeno Guarda 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 Torino Torino Professionista 3 a 1 Ma giocate a padol Andate che muova di moda Il padol va Andate a giocare a padol Che forse vi divertite di più Fuggente frustrata Che non siete altro Brutti Scorretti Andate un affanculo Mi è andato bene Che ho continuato A registrare Perché vi devo far vedere Che merda di gente Ci sta su questo cazzo di gioco Ha fatto il gol Che non si sa come Ha iniziato a fare i falli Qua di là Da parte selezionava tutto Poi che faceva Lasciamo Sul 3 a 1 Perché sapeva che gli passavo La cioccolata Ha smesso Bene Bene Bevi complimenti ragazzi Questi La gente che ci abbiamo Io accetto tutto Accetto Ma la gente così no Che questa è gente Che Squallida schifosa Va bene ragazzi Prossimo video Un abbraccio Sono contento Sono contento Ma non sono contento Perché mi urtano Ste cose E adesso che lo so Dio perdona Guazzi Gol Ciao